Arriviamo! Qui capitano Nierta alla Braxton, daremo una piattaforma di supporto. Quadra nemica in pista! Loccate gli arce, li abbiamo sottotiro! Uccidenteli! Off-2, off-2! Missile lanciato! Dentro 1, vieno 2! Per colpo! Confermo attacco a tutte le unità in coda! Vi avviciniamo a un trasporto! Superatelo! Dobbiamo catturare la Draconis! Un bersaglio non identificato a ore 11! Cosa si cavolo è qui? Qualcuno lo vede bene? È un ufficiale Blacktail! È troppo veloce! Nemico volante accettive. Visual libera. Ho un buon segnale. Ti ho preso. Resisti. Marcus, grazie di essere venuto. Prego. Razzata Malta Ore 10, a difesa della Draconis. Non possiamo superarla. Cooper, mi serve che un pilota conquisti il fonte della Malta. Comandante Briggs, qui in bag 4-6-4. Possiamo portarlo a noi. B.T., ci serve un po' la veloce. Ricevuto, 6-4. Puoi farcela, Cooper? Forza. Cooper, preparati. Sei sicuro, B.T.? Fidati di me. Buona fortuna. Benvenuto nella 6-4, Cooper. Cooper, non possiamo portarti direttamente sul ponte. Non supereremo mai quei cannoni. Ti lasciamo a poppa. Dovrei farti strada verso la prova. Come,ホico. Non solo siamo frederi. Per estuveremo againi. Ci sono la prima. Grazie.